Ah, non volevo il frigo, non volevo il frigo. Ma non ti mettere il tovagliolo, sto riprendendo lei. Passo veloce. Nessuno vuole essere ripreso, almeno qua mi perdo. Passo dall'altra parte. Passo di là, passo di là allora, ok? Buone pesce. Lei è la più bella. Grazie. Puoi vedere gli occhi? Belli anche tuoi. Allora, è lui il più bello? Allora, aspetta che lo... Sì, no, 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 questa non è una foto, questa è un filmato, è un filmato. Sto filmando. Sto filmando. Sventolate la bandiera. Sventolate. Sventolate. Grazie mille. Anche voi. Anche voi siete simpatici. ecco voi qua